Una sola persona ricoverata e qualche decina di asintomatici in via di guarigione. Molti cosentini che nella prima giornata si sono sottoposti allo screening volontario con test rapido sul coronavirus. Dopo otto giorni consecutivi a zero contagio in Calabria c'è un nuovo positivo. Il sindaco emette un'ordinanza stringente per garantire alla città un'estate sicura. Protesta stamattina alla Mezzia dai neolaureati in farmacie che chiedono l'abolizione dell'esame di abilitazione. Gli ex lavoratori lamentano la mancata retribuzione e temono per il futuro occupazionale. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque siamo entrati nei locali della Task Force Anticovid dell'Aspe di Cosenza per fare il punto sulla situazione. Un solo ricoverato nei centri covid della provincia di Cosenza e una sessantina di positivi asintomatici in via di guarigione. Il coronavirus è sotto controllo sul territorio ma non si deve abbassare la guardia. Massima attenzione agli arrivi da altre regioni e potenziamento della capacità di screening gli obiettivi a breve e lungo termine. Per la prima volta una telecamera entra nelle stanze dove opera la Task Force Anticovid-19 della provincia di Cosenza. Una ventina di persone a lavoro da mesi per organizzare la controoffensiva e arginare il contagio sul territorio. Screening e contact tracing, triage telefonici e comunicazione dei dati. Attività coordinate dal responsabile Mario Marino che dal mese di marzo è alla guida della Task Force. Ci siamo dati a fare appunto per controllare e contenere la diffusione del virus e ci siamo riusciti grazie alla benegazione di un gruppo di operatori che sono sia afferenti al mio dipartimento, sia afferenti al C2G8, sia afferenti alle squadre cosiddette tampone che hanno fatto un lavoro veramente eccezionale andando in tutti i paesi della provincia di Cosenza a fare i tamponi a livello domiciliare oppure tramite il cosiddetto drive drug, cioè in macchina, in zone ben specifiche e ben stabilite. Oggi si può rifiatare, almeno dal punto di vista clinico, le strutture sanitarie sono quasi completamente vuote. Ci sono uno ricoverato all'ospedale di Cosenza che comunque dovrebbe essere messo nei prossimi giorni quindi non ci sono ricoverati all'ospedale di Cosenza, nemmeno all'ospedale di Cetraro. Ci sono soltanto 65 pazienti covid positivi asindomatici e che si ridurranno a breve perché stiamo facendo il secondo tampone perché il primo è negativo ad alcuni cittadini di San Lucido e di Torano e ad alcuni ospiti di Villa Torano. Con la libera circolazione consentita dal 3 giugno aumenta il rischio che arrivino in calabria soggetti positivi. L'ASP di Cosenza ha previsto un piano. La regione ha chiesto a tutti i cittadini che venivano dalla nostra regione di registrarsi al sito regionale con elenchi che vengono a essere aggiornati e inviati a noi costantemente e per cui non possiamo andare a vedere se ci sono situazioni attraverso treggi telefonico, contatti di diverio tipo e anche eventualmente tamponi in casi specifici se ci sono delle situazioni che devono essere approfondite. Lo sguardo è rivolto anche al futuro. La strategia punta sulle vaccinazioni anti-influenzali e il potenziamento della capacità di analisi. Con il dottor Iscovelli che è il vice direttore del dipartimento di prevenzione la settimana prossima andremo in regione per cercare di anticipare la campagna vaccinale anti-influenzali. Noi avremo bisogno di un ulteriore laboratorio di riferimento nella nostra ASP se è possibile e su questo la regione sta già lavorando. Abbiamo bisogno che, ma questo è un problema più generale, quindi di piattaforme, di test e di tamponi in modo da poter evitare quelle crisi che abbiamo avuto nei tre mesi che ci sono stati di attività intensa. Oggi e domani a Cosenza lo screening volontario con test rapido sul coronavirus e molte le persone che nella prima giornata si sono sottoposte al test. Hanno sfidato la pioggia che in queste ore si è abbattuta anche sulla nostra regione per effettuare lo screening con i test sierologici Covid-19 a Cosenza. Oggi i gazebo erano posizionati a Piazza dei Bruzzi davanti il palazzo di città. 150, se vogliamo parlare di numeri, abbiamo mosso da stamattina. La pioggia non ci ha fermati, comunque non ha fermato la gente che come vedete sta ancora lì perché ha l'esigenza, c'è una necessità da parte delle persone di fare questo test. Test sierologico su base capillare, quindi stiamo parlando di un test rapido che ci consente di capire in 10-15 minuti se hai sviluppato gli anticorpi, se il virus è in corso, se sei negativo. Il test è semplice da effettuare e il risultato è immediato. Questa è una cosa molto importante che voglio dire, i nostri sono tutti operatori qualificati, quindi stiamo parlando di infermieri professionali a tutti gli effetti. Siamo partiti con Cerceto, abbiamo fatto Celico, Spezzano della Sila, Camigliatello Silano, Cosenza. Domani mattina saremo su Corso Mazzini all'altezza di Palazzo degli Uffici. Poi settimana prossima continuiamo con San Marco Argentano, Castiglione Cosentino, Santa Caterina Albanese, Trebbi Sacce e poi a seguire il nostro calendario, chi volesse, lo trova sulla pagina Facebook. Un modo sicuro per sapere se si è stati anche in questi mesi infettati dal coronavirus. Ci siamo messi a disposizione di chi sul territorio, su base volontaria, voleva effettuare questo tipo di screening non avendo altri canali, nel senso che la gente vuole sapere, ha paura e quant'altro. Quindi questo è un modo per dare un servizio alle persone che volessero farlo. Una volta che il Comune ci ha dato l'autorizzazione e quindi aderisce alla nostra iniziativa e vengono su base volontaria ad effettuare questo test con un piccolo contributo all'associazione. Ti vediamo proprio con il cotone sul dito perché hai appena effettuato il test. Come hai mai deciso di farlo? Perché comunque lavorando in un ambiente di lavoro dove ci sono diverse persone provenienti da diverse parti della regione ho preferito fare il test per scongiurare qualsiasi pericolo, diciamo, perché comunque ancora tornando a casa il pensiero ce l'ha, forse ce l'ho, non ce l'ho, posso contagiare qualcuno. C'è ancora un po' di timore verso questo virus? Anche se i casi ad oggi in Calabria sono a zero, il timore c'è sempre, soprattutto visto che ormai c'è la libera circolazione e quindi diciamo che il pericolo potrebbe tornare ad aumentare. Un test semplice quello effettuato? Sì, sì, alla fine è solo una puntura al dito, come un colonago, quindi semplicissimo. Ma c'è chi lo effettua per tornare dai propri cari come questa signora che proviene dalla Sardegna? Sono domiciliata a Casali del Manco, io non sono calabrese, vengo dalla Sardegna. Il presidente della mia regione gradisce un attestato con la negatività per prima di entrare in Sardegna. Lì il presidente Solinas ha proposto il passaporto sanitario. D'accordissimo per rispetto verso la mia famiglia e per rispetto per la mia terra. Non è obbligatorio, però il presidente della Sardegna gradisce a chi lo fa. Infatti dà un bonus, un voucher da spendere in Sardegna a chi presenta un certificato con la negatività. Obbligo di comunicazione del rientro nelle seconde case di rispetto di un protocollo di distanziamento domestico che prevede una superficie abitabile minima di 14 metri quadrati per ogni occupante e contenuto nell'ordinanza emessa dal sindaco di Diamante Ernesto Magorno. E' stata sicura la priorità dei sindaci che per l'estate si preparano ad accogliere i turisti. A Diamante il sindaco Ernesto Magorno ha disposto con ordinanza l'obbligo di comunicare il rientro nelle seconde case e il rispetto di un protocollo di distanziamento domestico. Dovremmo rispettare le regole. Per esempio noi abbiamo messo in gambo sui fitti una ordinanza che vedo tra l'altro e applicato anche in altri comuni del nostro territorio, ho visto Braia, Tortora, mi pare che c'è un orientamento a fare in modo che le case che vengono fittate non siano né magazzini né case senza agibilità, siano case che abbiano un regolare certificato di agibilità e in ogni caso ci possono stare le persone che prevede la legge. Mi pare che applicare le norme che centrano anche poco con il Covid-19 sia anche qualificare l'offerta e anche la domanda da parte di chi viene nelle città della nostra regione, del Tirreno Cosentino. Sono leggi che sono sempre state in vigore, probabilmente non li abbiamo, come dire, non siamo stati attenti a farle osservare e in un periodo in cui c'è stata una pandemia, siamo usciti da casa da pochissimo tempo, forse ce ne siamo dimenticati, mi pare che l'emergenza sanitaria sia più in generale un'emergenza da non sottovalutare e le norme che regolano le abitazioni debbano essere assolutamente osservate. Adesso il consueto bollettino della regione, un nuovo caso positivo è stato registrato in Calabria dove il numero complessivo è di 1.159 a fronte di 72.124 tamponi fatti fino ad oggi. Dopo otto giorni senza contagi, in Calabria c'è un nuovo caso di coronavirus, i dati contenuti nel consueto bollettino della regione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 72.124 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.159, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 70.965. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 14 in reparto, 4 in isolamento domiciliare, 165 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 61 in isolamento domiciliare, 372 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 3 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 246 guariti e 19 deceduti. A Crotone 2 in isolamento domiciliare, 110 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valencia 4 in isolamento domiciliare, 72 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.160. Chiedono l'abolizione dell'esame di Stato abilitante alla professione neolaureati in farmacia, chimiche e tecnologie farmaceutiche stamattina in piazza per un sit-in alla mezza terme. Esame oneroso e fuori del tempo, dicono. La protesta con gli ombrelli indossano i camici e le mascherine rispettano il distanziamento sociale, i neodottori in farmacia il cui sit-in stamattina alla mezza terme è ostacolato dal vento che a fatica permette di srotolare lo striscione su cui è scritto abilitazione e ciò che chiedono perché non siamo, dicono camici di serie B. Contestano l'esame di Stato che formalmente abilita la professione ne criticano in primis le modalità. Le commissioni sono state lasciate libere di decidere qualora venisse interrotta la connessione di interrompere l'esame quindi facendoci perdere anche soprattutto un versamento che noi facciamo all'università che varia dai 4 ai 500 ore a seconda dell'università. Soprattutto in questo periodo di crisi penso che sia inaccettabile una tassa così onerosa da parte delle università. I neolaureati in farmacia, chimiche, tecnologie e farmaceutiche provenienti dalle università di Catanzare e Cosenza così come i fuori sede rientrati per l'emergenza Covid del gruppo laurea, abilitante e farmacisti si sono dati appuntamenti in corso Nicotera chiedono di essere trattati come i neomedici. Venga abolita per quest'anno e per gli anni successivi appunto l'esame di Stato stesso. Noi facciamo 900 ore di tirocino pre-laurea 900 ore che vengono certificate dall'ordine dei farmacisti successivamente una volta usciti dall'università abbiamo tutto un bagaglio culturale già predisposto noi abbiamo già delle competenze e delle conoscenze per poter affrontare la professione alla quale siamo chiamati ma ancora non siamo pronti per lo Stato in quanto dobbiamo versare questa capitazione anacronistica di 400 euro per poter fare un esame che oggigiorno soprattutto non ha più senso in quanto si rifà una legislazione degli anni 50 anni in cui appunto il tirocino veniva condotto post-laurea oggi abbiamo appunto un tirocino pre-laurea e chiediamo che venga eliminato questo esame di Stato oramai veramente anacronistico è un rimasuglio folcloristico che purtroppo è rimasto dagli anni 50. ieri vi abbiamo parlato della lettera dei futuri genitori che chiedono alla Santelli la possibilità per i papà di poter assistere al parto richiesta che a Cosenza potrà essere accolta dopo la lettera dei futuri genitori che hanno scritto alla Presidente della Regione Gliore Santelli chiedendo la possibilità per i papà di poter assistere alla nascita del bambino il primario di neonatologia Gianfranco Scarpelli sottolinea che potrà essere accolta questa richiesta a Cosenza i papà sono sempre entrati in sala parto nel nostro ospedale perché è considerato un elemento essenziale per il benessere della donna la presenza del padre nella sala parto noi siamo stati costretti per l'emergenza Covid a evitare questa possibilità ma sicuramente dal 15 giugno siamo già organizzando per predisporre l'entrata del papà nella fase espulsiva e durante il parto ma sicuramente previa indagine anamnestica sulle condizioni cliniche del padre e sulla possibilità di un eventuale contagio nell'eventualità che il padre non potrà essere presente si darà la possibilità ad una persona a scelta della madre di entrare in sala parto così come abbiamo previsto che in presenza di condizioni cliniche particolari o di parti operativi sarà possibile far rimanere nella prima notte di reggenza per dare un supporto emotivo e anche psicologico alla donna una persona indicata dalla stessa donna protestano gli ex lavoratori del parco acquatico di Rende ad un anno dalla inaugurazione lamentano la mancata corresponsione degli stipendi e l'incertezza per il futuro questo che vedete è il parco acquatico di Rende ribattezzato negli ultimi tempi pacco acquatico sembra più appropriato pacco acquatico infatti sembrava un'idea geniale quando è venuta ad uno di noi e l'abbiamo adottata fino in fondo è successo praticamente che dopo lunghi mesi nei quali abbiamo cercato una via bonaria per arrivare a delle soluzioni per quanto riguarda i nostri stipendi abbiamo delegato tutti a delegali, all'ispettorato del lavoro e quindi adesso procederanno le vie competenti e le autorità competenti per capire cos'è che in realtà ci spetta di diritto per quanto riguarda gli stipendi e anche le assunzioni non fatte o se le assunzioni fatte sono regolari o meno stamattina incontrata a Santa Chiara i lavoratori del parco acquatico hanno espresso tutto il loro disappunto per una situazione che ha davvero del paradossale quello che doveva essere un fiore all'occhiello per l'intera area urbana di Cosenza nei mesi successivi alla sua apertura è divenuta quasi una cattedrale nel deserto ci sono stati giorni in cui noi siamo stati costretti a mandar via malincuore della gente perché nonostante lo spazio a disposizione facevamo il tutto esaurito quindi abbiamo lavorato anche se in emergenza anche solo all'apertura quindi non ci aspettavamo neanche questo lavoro e questi incassi in realtà abbiamo lavorato bene poi sono subentrati determinati altri problemi e quello che poteva essere una struttura in eccellenza che poteva rappresentare magnificamente una regione come quella della Calabria con una struttura ed un impianto che non ha paragoni da Roma a scendere in realtà ha disilluso le aspettative anche i sindacati hanno raccolto il grido d'allarme di tanti lavoratori che sono stati lasciati soli l'interlocutore è innanzitutto l'azienda che gestisce il parco acquatico e le aziende che gestiscono il parco acquatico ma il comune sicuramente è un interlocutore è un soggetto che in questa storia ha la possibilità di giocare diverse carte di effettuare un controllo stringente di quelle che sono le attività e il trattamento che viene riservato ai lavoratori è finito agli arresti domiciliari un giudice di gare istruttore tecnico sportivo di bodybuilding l'operazione effetto doping della Guardia di Finanza dopava gli atleti l'imbottiva di farmaci scoperto dalla Guardia di Finanza è finito ai domiciliari un tecnico sportivo di bodybuilding è istruttore di gara residente a Corigliano Rossano l'ordinanza di custodia cautelare seguita dai finanzieri emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari l'indagine denominata effetto doping iniziata da un maxi sequestro di anabolizzanti vietati circa mille pezzi che le fiamme gialle avevano scoperto nel corso di un controllo a cui era stato sottoposto l'uomo oggi arrestato i finanzieri della compagnia di Sibari avevano trovato i farmaci in casa e nella palestra gestita dalla moglie dell'uomo palestra in cui il 52enne ricopriva il ruolo di istruttore le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che hanno setacciato i conti correnti e le movimentazioni effettuate dall'indagato tramite il circuito finanziario Money Transport hanno permesso di dimostrare che l'uomo senza comprovate indicazioni mediche forniva le sostanze farmacologiche capaci di modificare i risultati dei controlli antidoping a favore dei frequentatori della palestra che intendevano partecipare a manifestazioni sportive di caratura nazionale una pratica non solo scorretta quanto pericolosa per gli atleti L'Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi il 206esimo anniversario della propria fondazione cerimonia in tono minore per il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 si sono svolte nei vari comandi provinciali della regione vediamo adesso la cerimonia a Cosenza 206 anni fa la fondazione dell'Arma dei Carabinieri non c'è stata la tradizionale cerimonia militare a causa delle misure di contenimento della pandemia ma come ricordato il comandante generale nel messaggio rivolto a tutti i carabinieri la solennità ideale della ricorrenza è interamente riposta nella confermata adesione di tutti ai valori fondanti dell'istituzione l'anniversario quest'anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima medaglia d'oro al valor militare alla brigata di guerra dell'istituzione per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale era il 5 giugno del 1920 e da allora in questa data si celebra la festa dell'Arma nata come corpo dei Carabinieri Reali a Cosenza il comandante provinciale dei Carabinieri il colonnello Piero Sutera e il prefetto Cinzia Guercio hanno deposto sulle note del silenzio una corona di alloro al monumento ai caduti all'interno della caserma Paolo Grippo a margine della breve cerimonia il colonnello Sutera ha sottolineato che quest'anno la festa per i 206 anni dell'Arma dei Carabinieri è segnata da profonde benature di tristezza per i terribili effetti della diffusione del Covid-19 nel nostro paese oggi alla gioia per la solennità si affianca il desiderio di stringersi simbolicamente alle tante famiglie di italiani che hanno perso i proficari senza neanche la possibilità di rivolgere loro un'ultima carezza in questi tristi elenchi aggiunge non mancano purtroppo anche i carabinieri come tradizione è stato poi tracciato un bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno il lavoro portato avanti negli ultimi 12 mesi è stato principalmente finalizzato a rafforzare l'attività preventiva svolta dai 99 presidi dell'Arma operanti nella provincia di Cosenza soltanto pochi dati per riassumere l'ampiezza del lavoro svolto dall'Arma nella provincia contro ogni forma di illegalità in un anno da giugno 2019 ad oggi i carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno perseguito 14.837 reati deferendo in stato di libertà 5.221 persone e arrestandone 706 e da Cosenza a Reggio Calabria per l'anniversario della fondazione dell'Arma il comando provinciale dei carabinieri di Reggio in occasione dell'anniversario della fondazione del corpo ha voluto condividere seppur nel rispetto delle norme che prevedono il distanziamento dopo l'emergenza covid-19 con la gente un importante momento celebrativo alla presenza di altri ufficiali autorità civili e religiose una corona da loro è stata sistemata all'interno del comando provinciale di via Schenez un gesto simbolico e nel contempo sostanziale testimonianza dell'impegno che la bene merita profonde ogni giorno nei numerosi interventi si è infatti ribadito il ruolo dell'arma che anche nell'emergenza sanitaria che ha creato enormi disagi ha fatto sentire il suo lavoro la sua passione la vicinanza alle popolazioni dell'intera area metropolitana 206 anni di contrasto all'andranghete e alla criminalità in genere ma anche di supporto e aiuto ai giusti nel segno di una calabria degna dei principi di onestà e laboriosità ritrovato in buone condizioni l'85enne scomparso mercoledì scorso da Santo Stefano di Rogliano era in un bosco se tracciato da Vigili del Fuoco protezione civile e guardia di finanza gli applausi e le lacrime la notte che diventa meno buia è stato ritrovato in buone condizioni l'85enne scomparso mercoledì scorso da Santo Stefano di Rogliano nel Cosentino la squadra dei Vigili del Fuoco insieme alla protezione civile e agli uomini della Guardia di Finanza hanno setacciato con l'ausilio delle torce il bosco nei pressi dell'abitazione dove secondo quanto si è preso l'85enne si era inoltrato non riuscendo più a trovare la strada per tornare a casa Romeo Melicchio soffre di Alzheimer e proprio per questo la famiglia aveva temuto il peggio quando di lui si erano perse le tracce allertate le forze dell'ordine e i media anche il nostro DG nell'edizione di ieri aveva accolto l'appello accorato le parole d'ansia dei congiunti nella serata la svolta nelle ricerche è il lieto fine della storia con la tensione che si scioglie quando i soccorritori individuano l'anziano e sano salvo nessuna conseguenza per il tempo trascorso da solo pericolo scampato con la famiglia di Melicchio e tutto il paese a festeggiare la buona notizia facciamo un passo indietro c'è una notizia appena giunta in redazione abbiamo parlato appunto dei test sierologici che sono iniziati oggi a Cosenza ebbene su 200 prove sierologiche appunto a Cosenza è risultata una persona positiva a cui l'ASPA ha provveduto a fare subito il tampone e adesso le previsioni del tempo imminente peggioramento delle condizioni meteo a causa dell'approssimarsi di una perturbazione atlantica che investirà anche il nostro territorio i fenomeni potrebbero localmente risultare violenti e abbondanti seguirà un miglioramento per il fine settimana domani avremo della residua instabilità al mattino sui litorali tirrenici in genere e zone interne del Vibonese e del Regino con locali piogge localmente a carattere di rovescio poche nuvole sulle restanti zone interne e settori ionici temperatura stazionaria in locale lieve aumento nei valori massimi sui versanti ionici passiamo a mari e venti domani ventilazione da maestrale sul Tirreno e su Ionio Catanzarese e Regino occidentale sul Golfo di Taranto meridionale sul settore ionico crotonese mari ovunque tra mossi e molto mossi per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria ed è tutto grazie per l'attenzione e buona serata Grazie a tutti